No, sto riprendendo, non è una foto Fosca, prendi una caramella Deborah, adesso mi sono ricordato dove l'ho mangiata la tua torta alla festa di Davide, alla casa di Davide è vero che l'hai fatto uguale? Eh? No, ripresa Non ho capito la tua domanda Davide viene Solo che lei è meridionale Cioè se non pulisce prima di uscire non esce No, ti scudo fammi una foto nessuno a me mi fa foto grazie a tutti